L'attività ha riguardato non solo la provincia di Palermo ma anche di Caltanissetta, Grigento, Catania e Trapani. Dal mese di settembre a oggi sono state 23 le persone deferite a vario titolo per aver messo in vendita senza avere alcuna documentazione comprovante la legale detenzione, complessivamente 112 tartarughe di terra e oltre 130 cardellini. Nel caso delle testugini, la testugina di Herman è una delle 30.000 specie di florefauna protette dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione. Firmata a Washington nel 1973 e ad oggi è ratificata da 182 stati nel mondo. La sua applicazione riguarda non solo il commercio di esemplari vivi ma anche morti o semplici parti o di prodotti da essi derivati. La commercializzazione degli esemplari scritti negli elenchi della CITES non è sempre vietata ma può avvenire solo in presenza della necessaria documentazione rilasciata dai nuclei CITES dell'arma dei carabinieri. I cardellini sono invece tutelati da un'altra convenzione internazionale, quella di Berna, che ha ad oggetto la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotipi in Europa e dalla direttiva Uccelli dell'Unione Europea sulla conservazione degli uccelli selvatici. Tutti gli esemplari sequestrati sono stati affidati alle cure di centri di conservazione della fauna selvatica allo scopo di riadattare gli animali alla loro vita nell'ottica dove possibile di un rinserimento nei rispettivi habitat di provenienza.